Il cavo della teleferica colpì il lavoratore in nero così violentemente da ucciderlo. Il Tribunale di Trento condanna il datore di lavoro a 4 anni e 5 mesi di reclusione. Questo lo sviluppo giudiziario del procedimento a carico di un 44enne a Gordino, unico imputato nel caso della morte di Vitali Mardari, 28enne moldavo residente a Santa Giustina. Siamo nel 2018, nell'immediato post-Vaya, il 19 novembre, l'operaio forestale sta lavorando per l'uomo a Gordino nei boschi di Val delle Moneghe a Sagromis. Non ha un contratto, così come i due colleghi. I tre lavoratori in nero e l'uomo che li ha chiamati tirano una funne d'acciaio che dovrebbe fungere da teleferica per il trasporto del legname. Un errato calcolo delle forze in gioco sulla corda e l'uso di un escavatore per tentare prenderla, fanno saltare la fune che colpisce Mardari e lo scaraventa a 20 metri di distanza. Il 44enne a Gordino, con l'aiuto degli altri due uomini, sposta il corpo dell'operaio forestale vicino al ciglio della strada e lo copre con dei pezzi di legno, dicendo poi di averlo ritrovato in quella posizione. I soccorritori, chiamati quindi in ritardo, notano le incongruenze tra le ferite e la posizione del 28enne. Non trovano gli altri due aiutanti in nero che nel frattempo se ne sono andati. La famiglia della vittima, assistita da GS e risarcimento danni, ha rivissuto il dolore di quei giorni fino alla sentenza del Tribunale di Trento che non ha concesso alcuna attenuante al 44enne a Gordino, aggiungendo alla condanna a 4 anni e 5 mesi l'interdizione ai pubblici uffici per 5 anni. Inoltre, l'imputato è stato condannato a una provvisionale immediatamente esecutiva di 110.000 euro, oltre alle spese di costituzione ad assistenza liquidate in 8.000 euro.